ciao a tutti io sono phantom questo è il mio canale e oggi faccio questo video per dirvi che farò partire una nuova rubrica sul mio canale un nuovo format si chiamerà a me i problemi ovvero vorrei instaurare un rapporto con la community cioè io faccio tutorial come potete vedere sul canale però non conosco effettivamente tutti i problemi degli utenti quindi basterà da oggi in poi che commenterete sotto questo video sotto qualche altro video un problema che avete hardware software e in pratica io proverò a risolvere il problema nel caso in cui dovrei riuscire a risolverlo farò un tutorial su come ho fatto e lo pubblicherò su youtube ovviamente la cosa vale sia per console che per pc e ho fatto anche questo video perché ho cambiato la intro commentate anche per quello se vi piace non vi piacere meglio quella che c'era prima eccetera eccetera mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina bella rega a vi lascio la intro fatemi sapere ciao 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 ciao